E se non sa Raffellini, te De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà Non ho mai nutrito grande simpatia nei confronti di Morgan, artista che sicuramente rispetto perché artista vero, con una propria identità, con un proprio stile da sempre, una carriera sicuramente importante alle spalle e questo nessuno potrebbe mai metterlo in discussione perché parla la storia e parla la sua storia, ma diciamo che fin da quando nel lontano 1995 Morgan cantava con il blu vertigo Odio Massini e le sue ansie, una frase totalmente idiota che poi nel periodo in cui Marco Massini era condannato da queste voci nei suoi confronti si diceva che portasse sfiga, che lo portarono poi anche ad un breve ritiro tra il 2001 e il 2003 e soprattutto ad una grandissima sofferenza, possiamo soltanto immaginare quanta, diciamo che Morgan è sempre stato un personaggio scomodo e verso il quale oltre al rispetto perché io credo sia importante rispettare comunque chi ha un'identità e delle qualità non ho mai potuto provare altro, ecco diciamo così, artista che poi personalmente non mi ha mai esaltato, quindi se parliamo anche di gusto personale riconosco i meriti ma non è mai stato proprio nei miei canoni. Qualche giorno fa, fatto notizia, ne stanno parlando tutti, Morgan, giudice ad X Factor, programma che personalmente non seguo, ha giudicato un'esibizione positivamente, stroncando però la canzone interpretata, dicendo io non te l'avrei mai fatta cantare, perché questa è una canzone inesistente, mediocre, armonicamente vuota, insomma in tutti i modi ha bocciato questa canzone, dicendo tra l'altro di non conoscerla, come se poi noi pubblico fossimo stupidi, perché chi di voi non l'ha mai ascoltata, anche senza volerlo, eh. Io detesto Blanco e Sfera e Basta, ma mi fa impazzire in questi anni l'ho ascoltata, non potrei mai essere così falso da dire no, non l'ho mai sentita, è anche un insulto all'intelligenza del prossimo. E la canzone in questione è bellissima di Annalisa. Ha risposto Davide Simonetta, coautore della canzone sui social, e giustamente ha detto la sua, ma credo parlino anche i numeri, credo parli il successo di bellissima e di Annalisa in generale degli ultimi tempi. Credo basti questo per rispondere a Morgan, non perché ciò che fa successo sia automaticamente di qualità, però credo che in questo caso invece il grandissimo successo sia figlio di un percorso, di una storia, di tanto merito, di tanto lavoro e di tanta qualità, come detto. Morgan è una vita che parla e parla probabilmente troppo, non mi esalta quando compone, quando scrive, quando canta, quando si esibisce, devo dire ancor meno quando parla e quando apre bocca, l'è da fiato per poi perdersi in queste dichiarazioni, ma d'altronde negli ultimi tempi ne ha combinate il caro Morgan. Se penso anche alla bruttissima figura che ha fatto qualche mese fa, ricorderete, insultando con parole omofobe, mancando totalmente di rispetto al pubblico e credo che, insomma, senza fare il moralista perché non l'ho mai fatto e non lo voglio fare adesso che magari mi fa comodo perché lo sto criticando, però credo che quell'immagine sia simbolo di quello che è Morgan, ma basterebbe ripensare anche solo all'infinito meme di Dov'è Bugo del Sanremo 2020 che ci ha fatto tanto ridere, che ha diviso, ma nel quale ha voluto fare ancora una volta il protagonista e si è rivelato un esibizionista più che altro. Un grande artista non ha bisogno di essere esibizionista, fa quello che fa con rispetto ed educazione, rispettando soprattutto il prossimo, in quel caso Morgan non ha rispettato Bugo, ma non voglio parlare di Morgan, della sua storia, della sua carriera sarebbe anche molto difficile. Mi focalizzo e mi limito a questa brutta, infelice e stupida uscita che ha avuto qualche giorno fa per l'appunto ad X Factor. Non sto dicendo che bellissima di Annalisa debba piacere per forza o che sia un capolavoro della musica italiana, perché non è così. Io personalmente la considero una bella canzone, Morgan ha parlato di melodia, di armonia, di sound, ha fatto un'analisi tecnica che io rispetto perché non ho assolutamente le sue competenze, ma credo che a livello strumentale sia veramente una bellissima canzone, quindi secondo me ha proprio sbagliato in generale o la canzone o l'analisi, scegliete voi, però parlo proprio di rispetto. Faccio un discorso di rispetto del prossimo, del lavoro del prossimo, di atteggiamento, di stile. Naturalmente ci sono questi personaggi che interpretano ormai un ruolo da tempo, i vari Morgan, Cristiano Malgioglio, o parlando di giovani Achille Lauro, sono personaggi che sia fisicamente, sia negli atteggiamenti, sia nel modo di esporsi, hanno uno stile e devono portarlo avanti per continuare ad avere un'identità. Però credo che Morgan stia veramente andando oltre, lo hanno ammesso ormai anche i suoi fan storici, per l'appunto anche con le varie figuracce che ha fatto negli ultimi tempi, e si sta rovinando, perché come ho detto non mi è mai stato simpatico e senza metterne in dubbio le qualità credo che in generale non sia mai stato un personaggio così positivo. Però negli ultimi anni mi sembra che non ne stia azzeccando una, soprattutto quando parla, quando parla troppo. E questa battuta infelice su Anna Lisa, o in particolare su uno dei più grandi successi di Anna Lisa, è soltanto la ciliegina sulla torta. Ovviamente ne parlo perché sono un grande fan di Anna Lisa, perché amo questa canzone, perché non mi è piaciuta la dichiarazione, ma avrei potuto parlare di Morgan in tante altre situazioni, ripeto, è soltanto una delle tante purtroppo. Bella la risposta di Davide Simonetta, che mi pare si sia scontrato anche con dei leoni da tastiera sui social, qualcuno gli ha detto tu non verrai mai ricordato, Morgan sì, più giustamente ha detto in sostanza io compongo, scrivo, sto dietro le quinte, probabilmente mi ricorderanno soltanto i miei figli, ma è giusto così. Battute proprio alla Morgan da parte di quei pochi fan che Morgan ha ancora, perché ripeto, ho l'impressione che abbia sprecato un po' tutto negli ultimi anni. Bellissima comunque, resta un grande successo, Anna Lisa resta un'artista straordinaria e il signor Morgan dica pure quello che vuole, d'altronde. Qualche tempo fa c'era anche lui in quella massa di idioti che accusavano Massini di portare sfiga? Lo fece con questa frase terrificante, odio Massini e le sue ansie, beh insomma direi che più che ansia Marco Massini abbia raccontato la vita di tutti noi e forse piacerebbe al signor Morgan avere la discografia del Maso, perché no credetemi, non ce l'ha assolutamente, ma ce l'hanno in pochi, magari si conosce meno di altri, ma la discografia, la carriera di Marco Massini ce l'hanno veramente in pochi. Tutto qua giusto per dare una breve opinione su questa vicenda, una settimana dal forum tra l'altro di Assago di Milano che sarà una data storica per Anna Lisa e io sarò presente.